Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Orcu Verde con il nuovo aggiornamento di Rocket League ovvero uscito poco fa ci sono state veramente parecchie cose, diciamo parecchie per modo di dire, comunque parecchi cambiamenti e comunque sia ragazzi diciamo subito che si può praticamente adesso creare una partita privata far unire qualsiasi giocatore in base alla partita, ai numeri della partita entrando praticamente in una partita privata inserendo il nome e la password quindi il vostro amico vi dovrà dire il nome, la chiamata e password per appunto voi accedere alla partita privata quando appunto create voi una sessione privata praticamente potete inserire se appunto la partita è accessibile da solo al party, ad invito, comunque sia nome password e poi ragazzi scegliete voi quale mettere ovviamente anche la password ecco il nome per potersi unire poi ragazzi c'è anche una cosa molto molto bella che per ora ragazzi non so se è gratuito oppure no perché non sono ancora andato a vedere, comunque sia ci sono 9 auto ovvero 2 auto più che altro molto 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 veloci con il nostro ovvero il nitro ci sono inoltre due auto nuove, una la Dominus l'altra la Takumi possiamo appunto vedere che ci sono anche 5 nuove verniciature per tutte le auto da combattimento due dei nuovi potenziamenti missile nitro e burnout e due nuovi pneumatici inclusi gli spinner quindi ragazzi non so se sono gratuite oppure no adesso non ho potuto vedere perché non mi caricava la pagina mi diceva precision story e manutenzione quindi non lo so e niente ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale e da Orkomet è tutto noi ci vediamo al prossimo video bella bella